Noi buonasera, Santi Ligieri, Chance Bet News, ti volevo chiedere come è stato entrare a gara in corso una partita così importante, così difficile per sostituire tra l'altro uno dei giocatori più importanti in questo momento in questo Catania perché peraltro è un po' il play anche se è decentrato di questa squadra, hai avuto un buon impatto e a che punto ti senti fisicamente? Intanto mi dispiace per Diego e spero che non sia una cosa grave, che si rimetta presto. Non è stato facile perché entrare sempre a partita in corso non è mai facile, però mi sto allenando per star meglio, per aiutare la squadra e quando ho l'opportunità di giocare devo sempre dare il massimo. E oggi è andata bene, sono contento per questa vittoria perché era molto importante per noi. Ciao Emanuele, Marco Zappalla per CityZone, ti chiedo come ritieni a che punto è la tua condizione fisica, la tua condizione atletica al momento e se ritieni magari che per gli eventuali play-off potrai essere pronto al 100%, grazie. Mi sto allenando sempre al massimo, sto cercando di trovare la condizione fisica ottimale, non era facile perché arrivavo da due mesi di inattività quasi, quindi è stata tosta, però il mister mi sta gestendo molto bene e sto cercando di dare sempre al massimo quando mi mette in campo. Per ora sono contento, per il play-off spero di arrivare al 100% perché comunque se riusciamo ad andarci spero, perché dobbiamo andarci e sarà veramente dura. In percentuale secondo te al momento a che punto sei? Ma ora sono quasi sul 70% secondo me. Ciao Emanuele, Marcello Mazzari 10 Media, volevo chiederti, tu che sei uno dei nuovi, forse oggi è stata una di quelle serate dove il Massimino, come te l'avranno raccontato quando dovevi venire a Catania, era davvero gremito. Ti voglio chiedere le tue emozioni a riguardo, soprattutto per entrare dalla panchina, quindi vedere da fuori un po' quello che era l'atmosfera dello stadio e i giocatori in campo e se effettivamente sentite questa spinta che vi dà tutto lo stadio. Quando vieni a giocare a Catania sai già che lo stadio e i tifosi che ci sono qui ti danno una carica incredibile. Oggi è stato bellissimo perché ci hanno veramente aiutato e speriamo che continuino così ad aiutarci perché ne abbiamo bisogno. È stata una vittoria veramente importante e bella davanti ai nostri tifosi e siamo molto contenti.